Il giocatore di gara, qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro, il cartellino lo... Che meraviglia, un gol splendido! Una giocata perfetta! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora, un'esecuzione perfetta! Che giocata, gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Xavi con questa rete ha aperto il punto dei gol.